Sono Napoleone Bonaparte. Il mio cognome è stato successivamente francesizzato in Bonaparte. Sono nato il 15 agosto 1769 ad Agiaccio, in Corsica. Nato secondo genito di Carlo Bonaparte, avvocato di origine toscane e di Letizia Ramolino, bella e giovane donna che avrà addirittura 13 figli. È proprio mio padre che, contrario all'idea di io figlio che potessi intraprendere la carriera forense, mi spinge ad intraprendere quella militare. Il 15 maggio 1779, infatti, mi trasferisco nel collegio militare di Brienne, un luogo nel quale, a spese del re, verivano preparati i figli delle famiglie nobili. Fortunato di essere accettato, a seguito delle raccomandazioni del conte di Marbeuf, ci rimasi 5 anni. Nel settembre del 1784, a 15 anni, sono invece ammesso alla scuola militare di Parigi. Dopo un anno ottengo il grado di sottotenente di artiglieria. Grandi rivolgimenti politici e sociali attendevano l'Europa. Infatti, io, Napoleone, giovane, ero l'unico uomo a essere stato l'artefice principale, forse il più atteso. Al sanguinoso scoppio della rivoluzione francese, i realisti corsi si schierarono a difesa dell'antico regime, e io stesso aderisco con entusiasmo alle idee che il nuovo movimento popolare professa. Dopo l'assalto e la presa della Bastiglia, cerco di diffondere la febbre rivoluzionaria anche nella mia isola. Mi getto nella vita politica del posto e combatto nella fila di Pascal Paoli, il futuro realizzatore dell'unità morale e politica della Corsica. I miei meriti sono tali che nel 1791 vengo nominato comandante di battaglione nella Guardia Nazionale di Ajaccio. Il 30 novembre 1789 l'Assemblea Nazionale proclama la Corsica parte integrante della Francia, ponendo così fine ad un'occupazione militare iniziata nel 1769. Il 21 gennaio Luigi XVI viene ghigliottinato in Piazza della Rivoluzione, versione francese Place de la Rivoluzione, e io, promosso capitano di prima classe, partecipo alla repressione dell'insurrezione girondina e federalista della città di Marsiglia, Lione e Tolone. Nell'assedio di Tolone, io, giovane capitano, con un'intelligente manovra, ottengo la capitolazione della Piazza Forte. Il 2 marzo 1796 vengo nominato appunto comandante dell'Armata d'Italia. E, dopo aver battuto piemontesi e austriaci, impongo la pace con il trattato di Campo Formio 1797, gettando in questo modo le basi di quello che più tardi diverrà il Regno d'Italia. Dopo questa notevole prova, mi imbarco nella campagna d'Egitto, apparentemente per colpire gli interessi orientali degli inglesi. In realtà, fu inviato dal direttorio francese, che mi considerava troppo pericoloso in patria. Sbarcato ad Alessandria, sconfiggo i mamelucchi e la flotta inglese, dell'ammiraglio Horatio Nelson. La situazione in Francia intanto peggiora, disordine e confusione regnano sovrane. Senza contare che l'Austria sta raccogliendo numerose vittorie. Deciso di tornare, affido il mio comando